Buongiorno amici di Etno e Passione, oggi ci troviamo qui in un bosco di leggi, facciamo la ricerca di un fungo tipicamente infernale, come dicevo siamo alla ricerca di un fungo tipicamente infernale, si chiama lecino lepido, è un ottimo fungo anche se va mangiato togliendo il campo, il campo diciamo è molto legnoso, però è sempre un'emozione trovato, vi faccio vedere un esemplare che non è molto giovane, un esemplare maturo, che noi raccogliamo ovviamente, noi raccogliamo solo esemplari diciamo giovani, guardate. Musica 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti